Giovedì 26 giugno 2014, grande successo all'Auditorium Testori a Palazzo Lombardia per il workshop organizzato da Action Group dal titolo Involucro Edilizio. Possiamo fornire una svariata quantità di informazioni al progettista, a partire dai dati classici, quindi schede tecniche, curve fotometriche, tutta una serie di documentazioni scaricabili dal sito, ma siamo in grado comunque al nostro interno, avendo un team di ricerca e sviluppo formato da quattro persone, di ad esempio realizzare dei calcoli fotometrici, quindi in base al tipo di progetto che uno andrà poi a realizzare, piuttosto che siamo in grado di, utilizzando la consulenza dei nostri fornitori, sviluppare delle versioni anche dedicate, abbiamo sviluppato dei pali di altezze differenti, piuttosto che colorazioni differenti, nel caso di alcuni prodotti addirittura delle profumazioni e l'utilizzo di materiali differenti. Oggi si parlerà del tema del nuovo lighting, di come si è sviluppato nel corso degli anni e di come l'azienda sta sfruttando quelle che sono le contaminazioni del mondo artigianale, di tutte le realtà che la circondano, per arrivare a sviluppare nuovi prodotti con nuovi materiali che fossero più innovativi o anche più legatici alla storicità o alla matericità, con l'esempio il cemento e il legno. Oggi siamo presissimi, nel senso che abbiamo 50-60 appuntamenti calendarizzati e sono tutti molto interessati alla nuova famiglia che abbiamo presentato in aprile, che è la famiglia di Quid, che è proprio orientata al mondo del progettista, dell'architetto, grazie a tutto un discorso di modularità che permette di arrivare a creare fino a 1100 configurazioni differenti. Grazie a tutti!